Allora Andrea, come è andata la gara oggi? Ma si dai, abbastanza bene. Come era il percorso? Descrivicelo. Bello dai, corribile, sia dall'inizio alla fine, impegnativo al punto giusto. Bella giornata oggi, tanta gente, ti sei divertito? Sì, bella compagnia qua, qua la corte, poi si sta bene qua. Sì, bella compagnia qua. Sì, bella compagnia qua. Sì, bella compagnia qua. Allora Andrea. Sì, bella compagnia qua. Allora Andrea. Allora Andrea. Allora Andrea. Allora Andrea. Allora Andrea. Allora Andrea.